G.E.T.C. China è un'azienda cinese fondata nel 1998 e operante a livello mondiale che fornisce soluzioni flessibili alle esigenze dei rivenditori. Specialista nella produzione, nel design e nella consegna di sistemi di merchandising al dettaglio ed industriale, di magazzinaggio e di sistemi di esposizione. G.E.T.C. opera con un modello di business di successo e all'avanguardia che comprende un numero di produttori cinesi con sede nel centro orientale della Cina che lavorano insieme sotto l'ombrello della struttura societaria. G.E.T.C. primeggia nel marketing globale, nella fornitura e nella distribuzione, assicurando la consegna di sistemi di retail, di magazzinaggio ed esposizione, di alta qualità e ad un prezzo molto competitivo. Le nostre sedi aziendali si trovano in Australia, Nuova Zelanda, Thailandia, Chicago, Hong Kong e adesso anche a Roma, con l'apertura di un nuovo showroom europeo. G.E.T.C. si trova a Shanghai, la città più dinamica della Cina, dove ha riunito un'elite di esperti e di migliori tecnici e dipendenti di tutto il paese. Shanghai è il capoluogo cinese dell'arredamento per negozi. Con la sede centrale e l'immenso showroom situati nel quartiere Jai Ding di Shanghai, dove si trova il circuito della Formula 1, G.E.T.C. riesce ad offrire un comodo accesso ai clienti che vengono a trovarci in Cina, con un trasporto ben organizzato e con tutti i vantaggi che offre l'aeroporto internazionale Pudong di Shanghai. Ognuno dei partner di produzione di G.E.T.C. ha una qualità garantita ISO 9001 ed una produzione di classe mondiale, che copre più di 190.000 metri quadrati in tutti i nove impianti di produzione, combinata ad una forza lavorativa di più di 3.000 dipendenti. G.E.T.C. è in grado di offrire ai clienti la progettazione completa, la realizzazione di prototipi e di soluzioni one-stop shop sportello unico. G.E.T.C. produce una completa gamma di prodotti standard e progettati su misura, adatti per l'arredamento dei negozi, per il montaggio e per i sistemi di merchandising. Siamo specialisti nell'utilizzo di tanti materiali diversi, inclusi metallo, acciaio inossidabile, legno massiccio, laminato, MDF, plastica, acrilico e vetro. Abbiamo inoltre impianti per le finiture, che includono piastra cromata, zincatura e rivestimento in legno. G.E.T.C. Big Box Raking è un sistema di magazzinaggio ed esposizione ad alto livello, che permette merchandising e stoccaggio su misura, tutto in un unico scomparto. Quindi è un sistema funzionale flessibile per diversi tipi di ambienti lavorativi. Il sistema gondola è ideale per i venditori con più catene di negozi, dove vi è la necessità di soddisfare diverse grandezze, mantenendo un formato di esposizione del prodotto uguale per tutto il gruppo. Il sistema supermarket di G.E.T.C. è una disposizione retail mid-tier e soluzione di magazzinaggio di alta qualità, offerto ad un prezzo globalmente competitivo. G.E.T.C. produce design di falegnameria su misura, per soddisfare le diverse necessità di commercializzazione ed esposizione di ogni business al dettaglio. Offriamo una vasta gamma di scaffalature per l'abbigliamento, esposizione di post, punti vendita, vetrine e banconi ed è tutto disponibile con soluzioni su misura. Il team di G.E.T.C. ha una grande esperienza nell'arredamento dei negozi. Tutti gli account manager di G.E.T.C. parlano inglese. Sono professionisti che lavorano a stretto contatto con i clienti, per soddisfare i loro bisogni con soluzioni dettagliate e flessibili e per offrire i loro servizi durante la produzione e dopo la consegna del progetto. G.E.T.C. ha anche dirigenti stranieri che aiutano l'azienda a servire clienti esteri in maniera più efficiente. Il team di ingegneri di G.E.T.C. offre servizi con valore aggiunto che comprendono la planimetria del piano, la presentazione in 3D del progetto e di controlli di produzione e qualità dal prototipo alla produzione di massa, fino al rilascio della spedizione. G.E.T.C. vanta clienti in tutto il mondo, tra cui rinomati marchi internazionali e catene di rivenditori. G.E.T.C. è il vincitore del premio internazionale per l'innovazione del 2010. Questo prestigioso riconoscimento viene assegnato ogni anno da The Warehouse Group Limited, T.E.T.W.L., il più grande rivenditore di scout della Nuova Zelanda, con oltre 88 negozi a livello nazionale. Un premio che G.E.T.C. è molto orgogliosa di aver vinto.